È stata la nostra battaglia, battaglia che dura decisa quando c'è bisogno di difendere le imprese e i lavoratori del sud in una situazione di una gravità in termini di disparità di trattamento. Non si possono trattare le imprese del sud o delle regioni che si è in piano di rientro diversamente dalle imprese di altre regioni. Tra l'altro la vera crisi è qui, qua ci sono più ritardi di pagamenti, qua ci sono più compensazioni da fare, qui c'è più sofferenza dal punto di vista occupazionale e sociale. Quindi questi provvedimenti devono essere dedicati soprattutto a queste regioni, se erano nate con quel principio. Per una serie di ragioni, vecchie norme, leggi fatte in un altro tempo, in un'altra logica, impedivano tutto ciò. E quindi vanno fatte tutte le modifiche legislative per rendere omogeneo sul territorio i diritti e le opportunità delle imprese. Questa è la nostra battaglia, non faremo un passo indietro, abbiamo alzato un fronte comune, e devo dire in particolare dalla campagna il fronte, come vedo, è molto esteso di condivisione di questa battaglia. Io me la sono intestata perché penso di avere il dovere di farlo, insieme a tutto il sistema. E devo dire, rispetto alla giornata di ieri, molto difficile, drammatica per alcuni aspetti, quindi stamattina ci sono stati i primi segnali positivi e quindi ci si è resi conto che c'è bisogno di intervenire, che bisogna modificare i decreti, bisogna modificare la legge e quindi si sta ragionando su questo. E quindi oggi sono un po' più ottimista, nel senso che quando poi le battaglie sono battaglie giuste, i primi segnali arrivano, arrivano. Il dialogo c'è, però insomma bisognava prendere mano e decidere di cambiare quello che va cambiato e quindi dare l'opportunità alle imprese nostre di poter certificare, di poter avere le certificazioni, di avere la liquidità necessaria, di poterlo fare in un regime appunto di equità e di avere il supporto di tutte le norme di sostegno che è stato messo in piedi dal governo attraverso i decreti ministeriali, compreso il fondo di garanzia, che è uno strumento essenziale di sostegno al credito e quindi questo deve essere uno strumento che può essere utilizzato e deve essere utilizzato dalla regione in piano di rientro e in particolare dalle imprese dei cittadini di questa regione.